Una domanda molto rischiosa perché ho la fidanzata Preferirei i complimenti La porterei a vedere il bosforo di notte Non serve dirlo, sicuramente a boxe Sì, ripetuoso come l'etno Arroganza potrei dire Secondo me la femminilità e l'innocenza allo stesso tempo Dai, non si danno i dettagli Per me il desiderio è il futuro che si sogna in flesso Andiamo a vedere il mare